Vacanze e stresse. Abbiamo con noi la dottoressa Paola Pompei, psicologa, psicoterapeuta. Questo binomio è da un sacco di tempo che va di pari passo o è aumentato nel corso degli anni? È aumentato nel corso degli anni. Secondo me sta aumentando veramente sempre di più. Ma perché? Perché la vacanza non è più tale. Ha perso il suo vacanza, come va, come vuotare, come svuotare. Esatto, è profondamente cambiata. Del secolo scorso. Sì, esatto. La villeggiatura, come si chiamava una volta, non è più, non esiste più. E non esiste più, quindi, una cosa fondamentale dell'essere umano che ha bisogno di tempo per adattarsi ad una condizione diversa da quella quotidiana. Certo. Oggi le vacanze sono mordi e fuggi, molto spesso durano una settimana quando ci sono. Anche il fine settimana, tutti i fine settimana. Però anche se questa cosa alleggerisce un po' dal peso della quotidianità, però non fa in tempo, la testa non fa in tempo, non ha questa velocità. Sui ciocchi, non ha buoni. Esatto. E quindi di abituarsi ad un regime diverso e quindi fare una cosa importantissima che oggi non si fa più, che è niente per vuotare la testa, riflettere, pensare, fare progetti. Senza uno svuotamento non si può riempire con cose nuove. Invece noi siamo berati, le nostre menti sono rimpinzate di obblighi. Cioè mi devo divertire a tutti i costi. Esatto, ho delle aspettative esagerate, ma sostanzialmente perché la stragrande maggioranza delle persone non è soddisfatta nella quotidianità. E la stragrande maggioranza degli insoddisfatti lo è perché non gratifica, non è gratificato, non è grato per quello che ha. Guardiamo tutti sempre a quello che manca e allora c'è una rincorsa a riempire e poi in realtà avremo bisogno di svuotare. Una domanda, un esercizio che uno dovrebbe fare con il proprio pensiero, cioè lei l'ha detto, si guarda quello che manca e non si guarda quello che ha. Perché io penso a una persona di 50 anni, anche una persona matura, dice cosa ho costruito? Grattifichiamoci anche da soli nel nostro quotidiano. Esatto, esatto. Non lo so, posso sbagliare. Apprezziamo, apprezziamo. Perché l'apprezzare è la base per poi andare oltre, non è che ci dobbiamo accontentare mai. Però senza apprezzare diventa nevrosi e la nevrosi poi diventa una coazione a ripetere comportamenti sempre più distanti dal benessere, dalla serenità, dal rilassamento quotidiano, dall'apprezzare anche i rapporti con le persone che hai vicino, con i figli, familiari e così via. Lei sa quanto io mi batta per la condizione femminile, per migliorare, c'è ancora tantissimo da fare. Ma in questo momento storico, in questa area geografica, siamo anche parecchio fortunate rispetto a tante donne che ancora vivono condizioni di preistoria. Quindi imparare ad apprezzare quello che si ha significa mettere meno aspettative sulle vacanze, avere meno bisogno di evadere da una quotidianità e soprattutto avere quella serenità che ti permette di creare una vacanza quotidiana. Io dico ogni giorno bisognerebbe fare una vacanza che è un'ora, mezz'ora, un quarto d'ora, cinque minuti, ma è l'assenza totale di altro, lo svuotamento totale. Io sono convinta che molti telespettatori che ci stanno seguendo, sì, e come si fa? Io penso una donna che lavora, che ha i figli, che ha gli impegni, no? Dice sì, e io come faccio? Perché viene da chiederselo, no? Certo. Come si fa, dottoressa? Allora, si cerca intanto il momento adatto che specialmente le donne hanno in certi orari, diciamo così, e ci si prende del tempo per sé, del tempo calmo per gustare quello che si sta facendo, che sia mangiare un gelato, che sia fare una passeggiata, che sia fermarsi a guardare il tramonto. Che andare a fare un massaggio. Esatto, quello che è, ma può essere una cosa anche di cinque minuti, perché la meditazione quotidiana che uno può fare, se gli piace, eccetera, può durare, dura di solito quei 20-25 minuti, ma ci sono meditazioni da tre minuti, da quattro minuti, il training autogeno si fa in due minuti e mezzo. Cioè, il trovare una condizione di totale benessere è veloce, ma deve essere ripetuta quotidianamente, bisogna creare un'abitudine. Allora il cervello si abitua che nel momento in cui ti fermi, guardi, non so, un panorama, ti prendi un libro, ne leggi tre pagine, non importa, ma quelle tre pagine sono le tue pagine, metti tutti a letto la sera, questo le donne lo fanno spesso, e ti prendi dieci minuti per te, oppure ti svegli mezz'ora prima la mattina e tante donne dicono, quello è proprio il momento per me, perché tutti dormono, io sono, no? Per gli uomini è la stessa cosa, però bisogna tornare veramente, non è retorica, è proprio spirito di sopravvivenza, bisogna tornare a dare importanza a quello che è piccolo, bisogna eliminare, alleggerire, e invece abbiamo vite appesantite da tante cose di cui non c'è bisogno. Mi permetto forse, io faccio una domanda, non veniamo educati anche a questo, cioè il nostro è una società dell'avere e non dell'essere, e purtroppo poi si arriva anche a una fase della vita avanti, che si fanno anche dei bilanci, per esempio a vent'anni, trent'anni, dottoressa. Esatto, esatto. Però quando si comincia a fare i bilanci diventa un po' stressante la cosa, non veniamo educati forse anche. No, perché anzi le vite dei bambini sono ancora di più appesantite da obblighi, da sport, da interessi, che sono spesso le proiezioni dei genitori che chissà che vogliono realizzare nei figli tutto quello che hanno realizzato loro, tutto quello che hanno cercato di fare e non sono riusciti, o pensano in quel modo di dare loro delle possibilità. Ma i più grandi geni della storia hanno concepito le loro più fortunate invenzioni, nei momenti di ozio, nei momenti in cui osservavano la natura, nei momenti in cui passeggiavano facendo niente, e perché questo ti dà la possibilità di metterti in contatto con un ordine naturale, che noi, con il contatto che noi abbiamo aperto, che ci fa pure paura, perché la natura è diventata qualcosa di ostile, e invece noi siamo dentro, siamo un pezzo della natura, e quindi recuperare questo significherebbe apprezzare il vuoto, perché se io ho vuoto, il vuoto è spazio. Se io creo un vuoto, quello è uno spazio nel quale io posso mettere tante cose, posso rinnovare tutto quello che c'è stato fino a quel momento. Come una casa. Esattamente, come un armadio, come un contenitore, come una esperienza della vita, tutto. Se svuoto, anche nelle relazioni sentimentali, se non svuoti, se non ti liberi degli ex, delle cose, non puoi aprire a cose nuove. Allora, il vuoto è una cosa santa, perché è spazio. Tutti ci lamentiamo che abbiamo sempre poco spazio. Sì, sì. Ovunque abbiamo bisogno di grandi spazi, ma in realtà perché tendiamo poi questi spazi a sovraccaricarli, a rinagirli eccessivamente di nuovo. Abbiamo avuto una piccola interruzione, ma abbiamo subito, il tempo è scaduto anche per la notte della dottoressa. Allora, abbiamo parlato di vacanze e stress, però lo sa che cosa mi è rimasto impresso di quello che ha detto lei? Il vuoto. Il vuoto. Che non significa il nulla, ma come spazio da riempire. Esatto. Spazio della mente da arredare. Da arredare, bello. Allora io ringrazio, ve la ripresento, la nostra dottoressa Paola Pompei, psicologa, psicoterapeuta.